Buongiorno a tutti quanti da Gran Gale in Cucina come vedete sottofondo faremo una bella minestrona con news in Gran Gale in Cucina oggi è proprio novità poi noi ci troverete su praticamente in parte dei tot tranne su LinkedIn ci trovate su Twitter, Facebook e Instagram e YouTube, nell'anno nuovo presente 2023 faremo il blog di Gran Gale in Cucina VIP e udite udite aprite la campanellina, Natale non ve ne pentirete per le feste metteteci tanti like fateci conoscere e che dire questa ricetta questo pranzo di oggi lo possono mangiare tutti quanti ogni palato noi vi salutiamo ci vediamo più tardi con la ricetta finale ciao ciao buon mattino da Gran Gale in Cucina anzi scusateci buona anti vigilia ciao a tutti a dopo da Gran Gale